Valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare della Piana dell'Entella per tutelare le tradizioni storico-culturali, parlare di educazione ambientale e di tutela della salute degli individui. Nasce con questo spirito l'iniziativa Sono tutti i Cavoli Nostri, in programma a Lavagna da venerdì a domenica prossimi. Protagonisti non solo il cavolo lavagnino, preso come simbolo del territorio, ma anche gli antichi ortaggi del Tiguglio, Evodop, il basilico, la dieta mediterranea e la nocciola Misto Chiavari. Giovedì sarà una martinata speciale, tutta dedicata ai bambini delle elementari della città che verranno accompagnati dalle maestre negli orti della Piana. I piccoli hanno anche realizzato tanti disegni a tema che sono già esposti nelle vetrine del centro storico. Venerdì poi l'apertura degli stand dei prodotti di eccellenza sotto al porticato Bregnardello. Ci saranno diversi agricoltori che esporranno e potranno vendere i loro prodotti di eccellenza, alcuni di Lavagna, altri anche del circondario, quindi dell'entroterra. Abbiamo sempre sotto al porticato Bregnardello, una zona dedicata agli show cooking, ai laboratori, alle dimostrazioni. Avremo invece in sala Campodonico due appuntamenti importanti, due conferenze, una al venerdì pomeriggio alle 4 e una al sabato mattina alle ore 11. Poi avremo, altra cosa molto importante, abbiamo organizzato tre visite guidate sugli orti. Sono visite guidate da una guida ambientale, gratuite. Le persone verranno accompagnate su il seggiun che è l'antico argine napoleonico molto importante per far conoscere una parte di Lavagna del tutto inedita. È la prima manifestazione dopo tre anni di nulla a seguito del commissariamento ed era necessario per noi iniziare proprio dai nostri prodotti agroalimentari che sono prodotti d'eccellenza. Quindi parlare della Piana dell'Entella e parlare del porticato Brignardello, perché comunque la manifestazione si svolgerà all'interno del porticato che per tanti anni è stato sottovalutato e invece per noi è un punto di riferimento per tutte le manifestazioni che ci saranno nel prosieguo.